ciao a tutti siamo al 29 gennaio il programma di contenuti di questo mese è stato rispettato appieno e avevo il piacere di parlare con voi del programma di febbraio programma di febbraio sicuro sono htc magic il nonno insieme alla htc dream dei telefoni android poi samsung galaxy s1 completamente funzionante e in ottime condizioni prestato da un mio amico molto gentile e ultimo e vi lascerò la curiosità video recensirò proprio per ultimo questo prodotto non ve lo svelo per il momento chissà sa chi non sa non sa chissà magari non sa il colore però una piccola una piccola chicca solo qui nel canale di gabriele e solo per oggi ciao